Un veterano all'altro, da Davide Marra a Luca Presta, giovanissimo ancora, 22 anni da compiere, però sei un veterano della Tonno Callipo, sei tornato quest'anno dopo l'esperienza di Castellana Grotte, si sta sudando tanto, oggi secondo test contro la Mezzia, che stagione stai vivendo finora in questa primissima fase? Sicuramente una stagione positiva, oggi abbiamo avuto un altro test, il secondo dopo l'ultima che abbiamo affrontato contro Gioia del Colle, è stato un test molto buono, abbiamo espresso un buon livello di gioco e sicuramente sono emozionato di ritornare a Vibbo e sono contentissimo. Hai trovato persone che conoscevi, dallo staff tecnico, alla società, all'ambiente, tifosi, giocatori, compagni di squadra che non conoscevi come costa, ora arriverà Veres, che stimoli ci sono ad essere un reparto centrale così forte? Sicuramente davanti ho due centrali molto forti, io quindi ogni giorno dovrò allenarmi e dare il massimo come sempre, io qua ho un ritorno a casa, quindi come ogni ritorno a casa è bellissimo, qua sto benissimo, ho ritrovato compagni come Davide, ma ne ho conosciuti altri come Jacopo, quindi io mi trovo molto bene. Settimana intensissima, settimana che proseguirà e terminerà sabato con un altro test contro Catania, un'altra occasione per potervi conoscere ancora meglio in campo? Sì, sabato facciamo un'altra amichevole, sicuramente sarà molto dura perché veniamo da una settimana tosta, è la quarta settimana se non mi sbaglio e stiamo caricando ogni tre volte alla settimana, quindi è molto dura, però sicuramente daremo il massimo perché sì, sono amichevoli ma bisogna sempre vincere, secondo me fa sempre bene vincere. Grazie a Luca Presta, ci vediamo sabato. Arrivederci, un bocca a tonno.